carissimi fratelli e sorelle gioia pace in abbondanza a tutti voi gesù e la grazia di dio e lui la grazia e lui la nostra pace e lui il salvatore e lui la vittima di nostri peccati e la nostra vita io sono la via la verità la vita le mie parole sono spirito è vita che incontra gesù incontra la vita e di la vita sono venuto perché abbiate la vita e l'abbiate in abbondanza dice sono venuto perché abbiate la gioia e la vostra gioia sia piena perché portiate frutto e il vostro frutto rimanga e lui la nostra salvezza fratelli e noi vogliamo invocare allo spirito santo poiché lo spirito di dio ci rivela a gesù cristo quando verrà lo spirito santo e li prenderà del mio e ve l'annuncerà lo spirito santo manifesta la gloria di gesù e a quanti accolgano gesù lo spirito santo da di glorificare gesù come il signore nessuno può dire gesù il signore se non mosso dallo spirito santo come nessuno può maledire gesù se è mosso dallo spirito santo che è mosso dallo spirito santo da gloria gesù e li prenderà del mio e ve l'annuncerà vieni o spirito creatore visita le nostre menti riempi della tua grazia i cuori che hai creato o dolce consolatore dono del padre altissimo acqua viva fuoco amore santo crisma dell'anima dito della mano di dio promesso dal salvatore irradia i tuoi sette doni suscita in noi la parola si luce all'intelletto fiamma ardente nel cuore sane le nostre ferite col balsamo del tuo amore difendici dal nemico reca in dono la pace la tua guida invincibile ci preservi dal male luce ed eterna sapienza svedaci il grande mistero di dio padre del figlio uniti in un solo amore sia gloria dio padre e al figlio che risorto allo spirito paraclito nei secoli dei secoli amen nella liturgia di oggi fratelli la chiesa ricorda la madonna di se shan la madonna più amata in cina la madonna è unica non ci sono tante madre di gesù è unica la madre gesù con titoli diversi sempre la stessa persona è nominata come l'immacolata l'assunto in cielo madonna delle grazie l'aiuto dei cristiani e via dicendo tantissimi titoli vengono date la madonna ma è sempre e solo la stessa madre di gesù che gesù ha voluto glorificare accanto a sé e gioisci quando noi la glorifichiamo perché secondo la parola di san paolo ricordate sempre come partecipiamo alle sofferenze di gesù così partecipiamo anche alla sua gloria e lei glorificata accanto al figlio suo in anima e corpo e la primizia della redenzione segna la strada incoraggia tutta la chiesa la soccorre in cina nella seconda metà dell'ottacento i padri gesuiti promisero alla madonna che qualora di oggi si fosse stata salvata risparmiata dalla rivoluzione che era in corso avrebbero costruito un santuario la madonna e ciò avvenne e ancora oggi questo santuario benedetto da lontano da papa benedetto diecimosesto è aperto a tanti cristiani cinesi che vanno a rigenerare la loro fede in questo luogo di preghiera e papa benedetto volle che questo santuario fosse noto in tutta la chiesa e che tutti noi vivessimo anche in comunione coi nostri fratelli cinesi duramente privati in tanti modi da tanto tempo e noi uniamoci a questi fratelli della cina nel pregare perché signori sostenga sempre più e perché la fede in gesù risplenda sempre più in questo paese e nelle liturgie di oggi ancora fratelli la chiesa ci offre una parte di quella bellissima preghiera di che gesù rivolse al padre prima di lasciare questa terra prima della sua passione che vogliamo proclamare per intero perché ogni parola detta da gesù ha la sua potenza la sua ricchezza padre padre santo custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato prima di questa lasciare questa terra gesù affida la sua chiesa il suo greggie alla potenza del padre padre santo custodisci nel tuo nome quelli che mi hai dato perché siano una sola cosa come noi quando ero con loro io li custodivo nel tuo nome quello che mi hai dato e li ho conservati e nessuno di loro è andato perduto tranne il figlio della perdizione perché si compisse la scrittura ma ora io vengo a te e dico questo mentre sono nel mondo perché abbiano in sé stessi la pienezza della mia gioia io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché essi non sono del mondo come io non sono del mondo non prego che tu li tolga dal mondo ma che tu li custodisca dal maligno essi non sono del mondo come io non sono del mondo consacrali nella verità la tua parola è verità come tu hai mandato me nel mondo anche io ho mandato loro nel mondo per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità il maligno fratelli attacca la chiesa continuamente sulla verità non sempre porta a negare la verità ma a corromperla ad adattarla perché non sia più tale e quando sta svenendo ai nostri giorni tanti si trovano in questa grossa difficoltà alla luce della scienza alla luce delle ricerche si tende a sminuire la parola di dio per lasciare posto a delle vedute che sembrano quasi un progresso della ricerca scientifica ma che in realtà è un inganno Dio ti sta amando adesso Dio ti ha perdonato Dio ti avvolge la tua vita ti accompagna sempre e questa è la grande verità Gesù ha dato la vita per te per il peccatore Gesù ha dato la vita in croce ha sacrificato se stesso come diceva nella preghiera per loro io consacro me stesso mi consacro a te per loro cioè la mia vita ha senso nel salvarli e ogni dottrina fratelli che non corrisponda a quella di Gesù Cristo non è da Dio come si ammonisce l'apostolo Giovanni ripetendo le parole di che ci sa Giovanni nella sua seconda lettera se uno viene a voi e non porta la dottrina del Cristo non ricevetelo in casa e non salutatelo per via perché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse cioè se tu sarei avuto quel tale perché porti quella dottrina no allora non sei con Dio no ama tutti aspetta tutti aiuta tutti ma non condividere l'errore e questo è quando noi troviamo anche nella prima lettura San Paolo al termine del suo terzo viaggio missionario passa ad Efeso e richiama i fratelli di Efeso e salutandoli li ammonisce come fece Gesù dicendo loro vegliate su voi stessi e su tutto il greggio in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della chiesa di Dio che si è acquistato col sangue del proprio figlio dopo la mia partenza ammonisce l'apostolo verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il greggio perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé per questo vigilate ricordando che per tre anni notte e giorno io non ho cessato tra lacrime di ammonirci a alcuni di voi vedete come in San Paolo si riproduce lo Spirito di Gesù è lo stesso Spirito Santo lo Spirito che ha portato Gesù nel mondo lo stesso Spirito che Gesù ha lasciato alla chiesa e che anima la chiesa santa di Dio e aggiunge l'apostolo e ora gli affido a Dio e alla parola della sua grazia che ha la potenza di edificare e di concedere l'erità fra tutti i santi fra tutti quelli che da Lui sono santificati Signore Gesù Tu ti prendi cura del tuo greggio in ogni istante noi crediamo Tu accresci la nostra fede Tu vuoi con il tuo popolo la tua chiesa cresca sempre più fino ad animare tutta l'umanità ogni uomo su questa terra deve essere generato Signore Gesù manifesta la tua gloria rivela la tua potenza affretta la tua venuta porta la tua pace su questa terra vieni Signore Gesù e ogni lingua proclami che Tu sei il Signore a gloria di Dio Padre Tu che vive il regno per tutti i secoli dei secoli Amen Vergine Santissima Tu assisti continuamente alla chiesa come madre come sposa dello Spirito Santo Tu assisti sempre alla tua chiesa oggi particolarmente ti presentiamo la chiesa della Cina tanto bisognosi di essere sorretta animata illuminata dona a tutti questi fratelli la grazia di conoscere sempre più Gesù figlio di Dio figlio tuo che è venuto su questa terra a redimerci sia Lui il nostro Signore il nostro Salvatore e salga a Lui ogni nostra loda e riconoscenza per tutti i secoli dei secoli Amen e la Madonna in questi giorni fratelli particolarmente si manifesti a voi e vi manifesti tutto il suo amore di madre e vi rivela quell'amore di Gesù che lei ha accolto nel suo cuore e lo dona oggi a tutta la chiesa a tutta l'umanità Amen Amen